Seconda giornata del Festival di Scienze e Filosofia a Foligno dedicata all'avventura umana. Il tema che abbiamo scelto per la giornata di oggi è la vita extraterrestre, in particolare quella sul pianeta Marte, che è stata oggetto della presentazione di Daniela Billi, astrobiologa e docente all'Università Tor Vergata di Roma. Marte è sempre stato nel nostro sistema solare il pianeta che più ci ha affascinato e la ricerca di vita in questo pianeta è iniziata già negli anni 70 con le missioni Viking, che però non hanno dato una prova dell'esistenza di vita almeno sul suolo marziano e queste indagini verranno riprese solo adesso con la missione ExoMars che appunto perforando il suolo marziano andrà a ricercare forme di vita passate o presenti a due metri dalla superficie di questo pianeta. Appuntamento clou della serata alla conferenza del teologo Vito Mancuso della Facoltà di Filosofia di Milano sul tema tecnologia, pensiero e libertà. Questa sera è atteso l'intervento sulla spesa economica del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston, mentre domani mattina tavola rotonda e ricordo dell'astrofisico Giovanni Bignami con Patrizia Caraveo, Niki D'Amico, Fernando Ferroni e lo stesso Roberto Battiston.